Ago, ciao. C'è una richiesta da parte del Cinofico. Siccome qua ognuno ha una richiesta, io mi sarei anche rotto. Te lo passo direttamente. Buongiorno, comandante. Buongiorno, comandante. Un appunto sul registro briefing. Non si indica, non indica. Il registro briefing. Rifacciamo. Buongiorno, comandante Alberto. Buongiorno, comandante. Volevo una richiesta da farne. Importante. Sul registro del briefing c'è la voce pilota, comandante, tecnico, labi soccorso, medico e altro alla fine. Siccome sull'altro ci sarei anch'io a desiderare lei, c'è così scritto CINOFILO. Posso dire un po' che così continuo pure a vedere... Può andare. Ho capito. Altro da chiedere. Un ringrazio di stinti salute con Stefano CINOFILO.